Se la nostra vita sarà lunga o breve, se qualcuno ci farà ancora del male, se ancora non abbiamo ottenuto la grazia richiesta, se la nostra vita non è come la vorremmo noi, se il pelle che facciamo viene interpretato male, se le disgrazie aggravano la nostra croce, se il nostro sacrificio non sarà mai riconosciuto, se le malattie hanno tolto la gioia dalle nostre grazie, se neppure nelle preghiere troviamo consolazione, se il male che tu permetti verrà per il nostro bene, sia fatta la Tua volontà, oh Signore, nelle ore più tristi della nostra vita, sia fatta la Tua volontà, oh Signore, nei giorni in cui la morte ci richiamerà a te, sia fatta la Tua volontà, oh Signore, perché tutto serva a santificarci, sia fatta la Tua volontà, oh Signore, perché possiamo meritarci una eternità felice, sia fatta la Tua volontà, oh Signore. La storia di Gesù 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 di Ges Nella fede, signori, anni sedore con l'amendolo, La parola di Gesù Glorie al Padre mi potente Glorie al Pino dello Votrido Glorie al Pino dello Glorie al Pino dello Glorie al Pino dello Amore, altra, santa, trina, amore. Hai dato loro il pane sceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel pirabile sacramento dell'Eucharistia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della direzione. Tu che vivi il regno dei secoli dei secoli. Ameno. Amore. 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.